Oh mio Dio, che succede? Oh mio Dio! Ok... Che cos'è? Guarda come urlano tutti! Guarda come urlano tutti! Scappo! Io scappo volando! Aiuto! Mi vuole mordere le chiappe! Oh mio Dio! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph E questo è Giulia Crema Spar E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Super Quel Gaspa Brad Leo, Andrea, Kim e Giulia, Daniele e Alessia Ciao ragazzi! Grazie per la condivisione E vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi Prima di iniziare ci tengo tantissimo a ringraziarvi per gli auguri che mi avete fatto Siete stati tantissimi Siamo arrivati a quasi 400 commenti E soprattutto abbiamo fatto un nuovo record, lo sai? Qual è? Dimmi, dimmi Mille visualizzazioni prima della mezzanotte Assurdo È una cosa assurda È stato bellissimo vedere le mille prima della mezzanotte Non c'era mai capitato, eravamo contentissimi ieri notte Quindi grazie mille ragazzi Sterinichi vi ringrazio e vi mando un bel bacino Guardatelo che carino Guardate, allora il bacino che vi manda con la sua bocuccia da cinghiale Immaginatevelo proprio Delicato, delicato Cosa andiamo a fare oggi? Mio caro Stef Cosa facciamo con il nostro Sterinichi? Ovviamente ci attrezziamo per avere delle guardie del corpo migliori di quella che abbiamo Perché io non voglio giudicare ma diciamo che non è proprio la cosa migliore di questo mondo A me invece lui piace, la sua specie mi piace un sacco È la prima volta che lo guardo bene Questo è il suo occhio Ok Queste qua sono due bocche Te l'ho detto nello scorso episodio Non ti ascolto, io te lo dico sempre che non ti ascolto, tu pensi che ti ascolto? Sì, l'hanno capito tutti che non mi ascolti mai Te l'ho detto che ha due bocche, non lo so, non so che di particolare a me piace un sacco Ok, a me non piace quindi cerchiamo nove specie alleate possibilmente più forti Ho mangiato un pochettino e guarda questi qua Allora, ho scoperto una funzione fighissima Guarda che brutti però quelli Guarda cosa ti faccio vedere Noi mettiamo questo Il cannacchiale Selezioniamo e lo possiamo guardare bene Ma sono doppi, sei pazzo? Ma dici che sono due persone diverse Cioè due esseri diversi uniti in una sola cosa Come funziona in questi casi? Io l'ho capito perché sono onnivori Quindi secondo me quello di sotto è carnivoro perché con quelle che le mi sembra cattivissimo Ok E quello di sopravvivoro Potrebbe essere la soluzione perfetta per noi Ma è fighissimo È bellissimo, vedi? Sarebbe una soluzione perfetta Se si può fare lo facciamo anche noi doppio Mi piace troppo Ne lo copiamo Allora, vabbè, la forma la vorrei fare diversa perché è davvero una cosa terribile Sembra una gru Quello là al posto delle braccia, le gambe è un po' strano È inquietante, però mi piace l'idea Siccome vedi onnivoro Allora, questi sono molto bravi perché hanno quattro di canto e quattro di ballo Sono fortissimi Quindi farseli amici non sarà facile ma ci voglio provare Andiamo Voglio vedere se ci riesco Sono d'accordo, mi piacciono un sacco Sembravano brutti e invece sono fighissimi Non avevo mai vista una specie fatta così, guarda Sono fighissimi Allora, vediamo un po' se ci riusciamo Vediamo Ormai abbiamo capito che tu non hai dotte canaure, quindi smetti Tu hai uno di canto Non è vero, ho 15 Meno 15 Ma che meno 15 Questo è un balletto, guarda come balliamo anche noi Ballettini Sì, vabbè ragazzi, ma non ci siamo neanche per sbaglio Guarda come ball... No, niente, non ce la fai? Cosa dobbiamo fare? Mh Trovare più pezzi Esatto Più frammenti di meteora perché così ci possiamo potenziare Avere un balle, un canto migliore Ok E conquistare questa specie perché io li voglio come alleati Mi piacciono troppo Abbiamo appena trovato una bocca, ok Ok Che ci dà 5 di canto Vedi, vedi, vedi Non saremo più dei cinghiali Dobbiamo trovare i pezzi migliori in assoluto Guarda come mi mangio la frutta invece che la carne Di quel che il nostro alleato quando noi mangiamo mangia anche lui fa troppo ridere Dove stai andando? Non andare lì vicino che ti picchiano Sta scatenando una risa Sì, sì Sta scatenando una risa Vieni qua Io me ne vado, io me ne vado Si stanno prendendo a parolacce Guarda Si stanno prendendo a parolacce Fai gestaci Un po' maleducato Ma che ci convini Te lo fari notare un po' maleducato Sì, guarda abbiamo trovato le anfibittore 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 Cos'è questo serino carinissimo? Aspetta Aspetta, te lo faccio vedere Ma che bellino che sei Non hai voglia di abbracciarlo Ciao Non hai voglia di abbracciarlo Poi vedere come rimane con l'occhio e bocca sbalancata È troppo carino È carinissimo Ma sono tutti troppo carini Tutti più belli di noi Sì, un balletto Un balletto Un balletto Vai Ok, guarda No, questi sono facili Questi ce li facciamo Amici finalmente Abbiamo dei nuovi amichetti Questi qua sono carini Questi sono carini Dai, fate nascere questo Scusate Non volevo cacciarlo Stai uccidendo il loro figlio Guarda dove sta a finestra Lo so Sta ancora arrotolando Non volevo È stato un errore Vallo a recuperare No, no, no Andiamo via Vallo a recuperare L'ho detto Andiamo via Prima che se ne accorgano Ma poi È stato un momento triste Uh, attenzione Guarda Stanno litigando con gli scorpioni Infatti noi passiamo in zona Ci prendiamo un po' di potenziamenti Ok Facciamo finta di nulla Ci facciamo gli affari nostri Facciamo capire che non vogliamo nulla Ne stiamo trovando tantissimi L'urpolo Bello Questo è molto famoso Sì Sì, sì L'ho avuto tutti i giorni Esatto E poi qua cosa abbiamo? Abbiamo un bellissimo Uh Piporecchio Ti posso chiamare Piporecchio D'ora in poi? È troppo carino Però è carino, sì Piporecchio Piporecchio È carinissimo Allora Aspetta, aspetta, aspetta Fai con calma Mi vuole attaccare Mi vuole attaccare Quindi aiuto Scappa, scappa Sono bruttissimi Ci sono delle giraffe lì È pieno di specie stranissime No, devi scappare Il nostro alleato è stato distrutto Sì Proprio con un colpo l'hanno distrutto Io voglio prendere il potenziamento E poi corro Ok, scappa No, hai tre di vita Aiuto Ti uccidere Vi prego Corri Corri come non mai Sì ma Siamo Sono delle cavallette lì Hai notato che le giraffe stavano guardando E non ci hanno neanche aiutato Sì, infatti sono già mie nemiche ormai Questo qua è gigantesco Quindi è importante Infatti Valefante Valefante ragazzi Un'altra bocca stranissima Ma guarda quanta gente Cos'era? Ah, ti hanno distrutto Ti hanno distrutto Sono dei cavolo di grilli Ci hanno mitragliato Sono delle cavallette Ti hanno distrutto Cavallette, brava Hai ragione Ma quanto sono carine queste giraffe Si chiamano proprio giraffa Si chiamano giraffa Mi sembra giusto Giraffa Sono troppo belline Le voglio come amiche Vediamo se ci riusciamo Allora Dai, dai, dai Sta chiamando gli amici Questi vogliono fare Un canto coordinatissimo Guardale È un ballo di gruppo Ma è bellissimo Guardale come sono brave Questa è una mossa di fascino Lo so fare anch'io Lo so fare anch'io La loro però era più carina Hanno fatto questa giravolta Guardali, guardali Ce la rimostrano Perché stanno di saperla fare benissimo Sono bravissimi Siete troppo brave Siete troppo brave per noi Mi sa che non Vedi No, non ci hanno accettato Va bene Miglioreremo E torneremo a farci le amiche Uffa, mi piacevano le giraffine Siamo arrivati al nuovo nido Sì Ce l'abbiamo fatta Infatti vedevo tutti questi bei curicini Non capivo All'inizio ho fatto Ma quelli sono quelli nostri Poi ho detto Ma siamo noi Ce l'abbiamo fatta finalmente Ad arrivare al nuovo nido Finalmente Così ci possiamo evolvere Oh, guarda, guarda, guarda C'è l'animazione di lui Che si riunisce Questo è un momento di gioia Eravamo gli unici Che eravamo ancora dall'altra parte Guarda che felicità Che bellini Che carini Guarda, guarda Che fanno? Non lo so Battendo il terreno Ah Conquistando il nido Credo Sì, sì, sì L'hanno reso l'oro Hai rivendicato questo nido Qui nasceranno le future generazioni Perfetto Guarda quanti pezzi di potenziamento abbiamo Ci sono uova che vengono lanciate Un po' da tutte le parti Sì, hanno state Un po' folle Un po' in modo particolare Di tenere, diciamo Le nostre nuove generazioni Comunque Abbiamo un sacco di pezzi Che abbiamo trovato Abbiamo 321 punti DNA È ora di diventare bellissimi Assolutamente È ora di diventare bellissimi Chi è che ha il cuoricino qua? Chi è? Chi è? Chi è? Guarda quante nuove bocche abbiamo Siamo benissimi Allora Una bocca carina stavolta Ti prego Qualcosa di carina Dobbiamo sceglierla in base A quanto sono utili Questa qua ci dà 3 di morso E 5 di canto Questa qui Che è erbivora sempre 5 di canto E 3 di salute Allora Vendiamo questa qui Questa dici? Sì Sei sicura? No Ma l'altra mi sembra più brutta No è divino però È bellino È bellino Mi piace Mi piace Nella sua mostruosità è carino Mettiamola così Ok comunque Perché di bellino qui non c'è nulla Tanti hanno criticato gli occhi Tanti hanno criticato gli occhi di serie Nikki Quindi io vorrei accontentarli cambiando gli occhi Ti va bene? Che dici? Ok 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 quindi li iniziamo a vendere Lasciamo così al momento Che bellino Deve gli occhi Capito? Che ti guardano Cos'è questa cosa? Scusami non volevo neanche provarci Era una prova? È bellissimo Fa troppo ridere così Siamo terribili Guardalo come sospira verso l'altro È felice È felice Come sbatti i suoi occhietti Sa di essere troppo carino Allora le mani no Quindi le Siamo troppo terribili Non ci servono Siamo troppo terribili Piedi qua c'è da migliorare Perché con i piedi possiamo essere fighi Allora Prima di tutto dobbiamo risparmiare Perché voglio comprare anche assolutamente un'altra cosa Che ancora non ti ho detto Ok Quindi 75 Puoi scegliere tra Tre dita Clopete E sgroppatore Mi sembrano carini questi Questi ultimi Ok Però questo è ballo 2 E questo è ballo 3 No allora quelli Quelli di su Dai Tanto ormai siamo herbivori Quindi miglioriamo L'unica cosa che sappiamo fare Ovvero ballare e cantare Guarda cosa ha giunto Le ali È troppo bellino Ce l'hanno scritto nei commenti Appena ho sentito che avevamo già le ali Ho fatto no Dobbiamo averle E infatti è troppo bellino Allora dobbiamo fare un'ultima cosa Cambio totalmente di look Quindi cambiamo anche colore Va bene? Sono d'accordo anche perché non mi piace Ce l'hai fatto così Ok Cosa possiamo scegliere? Oddio è terribile Mamma mia Questo colore è terribile Allora Cosa possiamo scegliere? Tipo una roba del genere Carica Così bellino però Bello Bello di questo viola Teniamo così? Sì guarda sono d'accordo Mi piace talmente tanto Ok Allora però voglio fare una cosa Ok Allora funziona così ragazzi Fateci sapere nei commenti Se volete un cambio radicale Quindi Sterioniki diventerà a due zampe Nel prossimo episodio O se nel prossimo episodio Volete vedere un'evoluzione Semplicemente di questa qua A quattro zampe Quindi decidete voi Perché io sono indeciso sinceramente Io sono indecisa Pensavo di fare anche Ho qualche forma strana in piedi A due facce Esattamente come abbiamo visto Esatto Qualcosa di molto particolare Sarebbe figo Oppure qualcosa Sempre a quattro zampe Però che tipo Dà la sensazione Tipo di un lupo Tigre Capito Qualcosa di molto più cattivo Perché per adesso Non si è ancora capito cos'è Per adesso È qualcosa di strano Quindi starete voi A scegliere nei commenti Noi decideremo In base a quello Comunque Io ti voglio dire una cosa Prima che ti Ok 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 va bene Che bisogna ammettere Che in ogni serie di sport Penso che tutti sono bravi Fanno specie fighissime Tutte Almeno da noi Vedono la mostruosità È una bella È un punto secondo me positivo Ok ok Dici Un'alternativa Beh dai Saranno tutti bravi Faranno tutti specie fighissime E invece guarda noi Guarda noi Almeno sono cose che non hanno mai visto Guarda Perché io ci scommetto Che così brutte Non le ha fatte Non le ha fatte nessuno Guarda Ne sono sicura Pensate ragazzi Quando ci farete Fare le costruzioni su Minecraft E voi non avete idea Di quanto saranno brutte anche quelle Però Vedi Tutti costruiscono bene su Minecraft Almeno da noi vedranno cose brutte Ho capito Non è che uno deve per forza vedere cose belle Ok No sto cercando di salvarli No no Sì 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 Perché non lo ho capito Sto cercando di darti una mano Però non Non ci sono giustificazioni per questa cosa Però aspetta Soprattutto di questo colore Non c'è Non c'è Guarda È pronta Guarda cosa possiamo fare adesso Oh mio è troppo carino Non andrei in acqua che affoghiamo poi Hai visto È carino come vola Hai visto È davvero davvero carino Continuiamo a prenderci pezzi Ma ora secondo me È tempo di farci amici di quelli potenti Perché Le giraffe Le giraffe Torniamo dalle giraffe Sì 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 Assolutamente Assolutamente Ok va bene Torniamo dalle giraffe Però dici che erano forti Tipo questo secondo me è più forte Dici Eh sì Proviamo Proviamo Guardalo qua Oh ciao bello Certo che se parli con questa voce Ci sarebbe benissimo Cosa vuoi fare Cos'è quello Un fascino Ti facciamo anche noi un fascino allora Guarda Guarda le nostre ali Adesso cosa ci fa vedere Eh ma se fai solo fascino Amico mio Noi siamo scarsi col fascino Siamo bravi a cantare A ballare Ma col fascino Non possiamo proporgli noi un canto No dobbiamo aspettare quello che fanno loro Che fanno adesso Cos'è questo Credo sia un balletto Però si è un po' scarso ballando amico Siamo più bravi noi a ballare Dai dai Sì però Non c'è feeling Perché è pieno di gente gigante E noi siamo minuscoli Però bella questa idea Bella anche questa Quattro zampe E due braccia Questi sono belli Vedi potrebbe essere un'idea Figo 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 Questo mi piace ragazzi Questo mi è piaciuto un sacco Adesso un balletto Ok perché dopo che si canta Si balla sempre Certo Mi sembra giusto Mi sembra proprio le regole base Del fare amicizia No Non è convinto No Ma per pochissimo No Lo so Però Non ce l'abbiamo fatta Oh mio dio Che succede Oh mio dio Ok Che cos'è Guarda come urlano tutti Guarda come urlano tutti Scappa Io scappo volando Aiuto Mi vuole mordere le chioppe Oh mio dio Ma perché ce l'ha solo con noi Era pieno di gente Poteva prendersela con qualcun altro Corri Stereniki Corri Che cos'è questa cosa Guarda la faccia terrorizzata di Stereniki Guarda negli occhi Mamma mia che paura Mamma mia Mi stavamo Tu eri zitto tutto il tempo Secondo me stavi per morire d'infarto Eri zittissimo Io ero lì contento di cantare e ballare Oh mio dio È stato terribile Vedi perché dobbiamo diventare forti Perché non può succedere che questi cattivoni ci fanno fuori No allora Quelli non li ammazzi in nessun modo Ma dici Dici che non ti faccio fare Però io ve lo voglio dire ragazzi Come obiettivo della serie io lo vorrei mettere questo Provare Ad ammazzare il mostro da mille Sì Perché aveva mille di vita L'ho visto Ti spiego Ti spiego Perché loro magari pensano Ah ma così non sei più pacifico No No Noi facciamo pace e amore con tutte le specie del mondo Dopodiché ci alleiamo tutte Contro quel coso Perché quel coso porta guerra e tristezza con tutti Come ha fatto adesso Noi stavamo ballando e cantando E lui è venuto a sterminarci Quindi servirà semplicemente a liberare questo mondo Ancora per molto questo discorso Sì 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 Quindi sarà una sfida Un monologo da 15 minuti Sternichi contro il mostro gigante da mille di vita Come obiettivo finale della serie Ti piace? Puoi anche convincerti di queste cose A me non interessa L'importante è che lo facciamo fuori Lo so che tu stai cercando di fare queste cose Perché in realtà anche a te piacerebbe sterminarlo No 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 Sì invece Con tutte le tue convinzioni Si vede che non mi conosci bene Che secondo me non stanno né in cielo né in terra Ma sentila la Con quali parole mi parla Con proprio parole sofisticate Ok direi di fermarci così per questo episodio Sono un po' triste Perché non abbiamo fatto amicizia Con nessuna specie un po' più bella Ma nel prossimo episodio Recuperiamo di sicuro E abbiamo un obiettivo finale per la serie Esatto Prossimo episodio sicuro Ma che è sto coso? Oddio mi fanno paura Cioè io vorrei finire di dire il mio discorso Dicevo nel prossimo episodio punteremo a farci Sia alleati che nemici Esatto Proprio punteremo a conquistare tutto il pianeta Facendoci amiche alle specie O nemiche Amiche Amiche Per voi sfidare qualcosa gigante E dai ragazzi Oggi non ci lasciano in pace Solaziamo via Solaziamo via E prima di finire il video Ovviamente andiamo a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Alessia Nico Gamer Paolo Lorena Adam Gamer E Caterina Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi il video è possibile così Se vi è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che avete un nostro video Potete considerarli Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti